Sono Paola Muraro, sono laureata in scienze agrarie, sono veneta, dal mio accento si sente, però risiedo a Roma da ben 15 anni. Sono 20 anni che mi occupo di ambiente e sono l'assessore alla sostenibilità ambientale. Nella mia vita professionale mi sono sempre occupata di gestione dei rifiuti, preservare l'ambiente dai danni ambientali proprio e quindi dall'azione dell'uomo. L'assessorato si chiama di sostenibilità ambientale, è una parola molto complessa, però ci dà l'idea di quello che è la sostenibilità, cioè noi dobbiamo vivere ma preservando tutto quello che serve anche per le generazioni future, quindi far bisogno lo dobbiamo comunque preservare per i nostri figli e per chi verrà. Questo vuol dire che il mio assessorato in particolare deve confrontarsi con l'assessorato alle politiche sociali e soprattutto anche con quello che è i lavori pubblici, l'urbanistica, quindi è una buona squadra che avrà il coordinamento di tutte le attività. Per quanto riguarda il mio programma si prevede, come già ampiamente diffuso, che comunque noi puntiamo sul recupero di materia. Cosa vuol dire recupero di materia? Vuol dire che per noi tutto quello che utilizziamo nella nostra vita, nella nostra casa, non deve diventare un rifiuto, diventerà rifiuto solo quello che non potrà essere recuperabile, reciclabile. Ragion per cui noi stiamo approntando tutta una programmazione per verificare la raccolta differenziata, come è stata fatta, l'efficienza reale. Dopodiché interverremo su quegli aspetti della vita, anche sull'aspetto industriale delle attività del Comune di Roma, che in questo momento qua producono rifiuti e quindi a spese della collettività vengono smaltiti, proprio per entrare nel discorso sostenibile. Cioè quel tipo di rifiuto non sarà più rifiuto, sarà recuperato e quindi sarà una risorsa. Questa è la base del programma, però per primo dobbiamo pulire la nostra casa. L'abbiamo trovata piena di macerie, piena di rifiuti e senza regole e quindi in questo momento qua interverremo dettando e facendo osservare le norme. Poi ci sarà anche il risvolto programmatico che andremo nei prossimi giorni poi a definire e quindi ve lo comunicheremo. Dalla mia nomina io sono scesa subito in strada per vedere in che condizioni è l'ambiente in cui viviamo, la nostra casa. Ragion per cui due volte a settimana io uscirò sul territorio e spero di incontrarvi.